ciao ragazzi siamo noi grazie facci vedere cosa vincerai una leggendaria speriamo una bella 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 una epica un robot ce l'avevi già no è uno nuovo allora mi farò fare altri no basta hai vinto il robot epico va bene dai facci vedere quello hai vinto dai facci vedere il robot facci vedere la tua skin robot dai per favore dai dai facci vedere per favore la tua skin robot facciola vedere facci vedere tutte le tue skin che hai dai 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 liam liam ci fai vedere le skin che hai? no no ehi ci fai vedere le skin che hai per favore un attimo come un attimo vogliamo vederle subito un attimo che lo voglio dai facci vedere le skin no facciole vedere dai giro il tablet e schiaccia uno alla volta giro il tablet ok schiaccia uno alla volta hai t-rex ma questa eh ma via la mano che non vediamo ok e questa si e questa ah il calciatore ok e questa si militare si militare e questa la cinese e questa e questa il pompiere e questa e questa il pompiere vigile del fuoco e questa il poliziotto americano e questa e questa il box alex tana e questa e questa il pagliaccio il clown del lunico e poi questa mario balutelli mario balutelli e io voglio anche questo ok questo qui è eh voglio anche questo questo è questo è un guerriero come io eh questo sono io grazie dopo questa è la mamma questa è la mamma è Dalia questa è la sorellina questo è il nando Renato questo è Dadi Dadi facci vedere ma questa è Dada Dada che va sulla luna sì ma questa è Valentina Zia Valentina ma questa è Liam no no ma questa è GBR GBR ok la famiglia GBR il tablet si è spento perché è scarico ahahah eh la sua famiglia è un livello poi il video grazie